e funzionava e poi si è bloccato ancora e poi mi chiamano Dani, non lo so adesso vediamo che cosa succede che pazienza che ci vuole questa sera anche per voi, mi dispiace allora, vediamo se riusciamo a ripartire in qualche modo allora, vi stavo dicendo che il cammino di Dante è un cammino di riconnessione di queste... dovrei spegnere i dati del cellulare, non so come fare perché voi non mi vedete bene così andiamo se... sì, va benissimo, ok, va bene allora, scusate, è un po' frammentato però è così questa sera allora dunque, quindi cercavo di dirvi da una parte la riconnessione di queste tre dimensioni dall'altra la cristicità della commedia che racconta un viaggio che va verso la pienezza dell'uomo naturalmente anche vorrei risuonare con voi con quello che sta accadendo in questi giorni quello che sta accadendo in questi giorni comunque è anche soltanto la punta dell'iceberg di un... potremmo dire di una... così di un... di un sistema che va cambiato di una situazione profonda appunto di alienazione di una situazione profonda che potremmo dire in senso dantesco e infernale ecco, quindi è questo un po' quello che dobbiamo fare insomma, è questo... il risuonare che voglio proporvi questa sera è in questo senso ma allora, facciamo così adesso io leggo qualche terzina iniziale del poema e poi dopo proviamo a passare a Purgatorio 1 per vedere un... questa... come dire per vedere questo... questo movimento di morte e risurrezione che il nostro poeta ci descrive allora, i primi 18 versi naturalmente sono la base di tutto sono l'ouverture di questo straordinario cammino nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirittavia era smarrita hai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspre forte che nel pensier rinnova la paura tanta è amara che poco è più morte ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che io vi ho scorte io non so ben ridir come io vi entrai tanto era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai ma poich' io fui al piedi un colle giunto laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle allora se noi rileggiamo questo testo che come sappiamo da una parte è veramente la spina dorsale della commedia sentiamo anche come questo testo in qualche modo ci parli parla sempre in ogni situazione della vita ma ci parli in particolare anche nel momento che noi stiamo vivendo allora intanto naturalmente abbiamo al centro la parola vita la prima parola in rima della commedia che è il centro di tutta la commedia anche è la pienezza dell'uomo è la pienezza della vita è l'armonia di queste tre dimensioni umana, cosmica e divina quella che è cercata nella commedia allora questo è il senso del percorso questa vita però che è smarrita ecco quindi in qualche modo fin dall'inizio Dante fa risuonare dentro di noi davanti ai nostri occhi la centralità della vita la vera vita dirà in paradiso 32-59 o la vita nuova e dall'altra però lo smarrimento della vita l'altra parola chiave naturalmente è la selva oscura la selva oscura è quella appunto che significa che significa una duplice cosa sempre nel poema e che significa una duplice cosa anche per noi oggi la selva oscura da una parte indica lo smarrimento personale indica il fatto che io non sono più a contatto con la mia vera natura che io non sono più a contatto con quel processo di trasformazione e di compimento a cui ciascuno di noi è chiamato significa che io in qualche modo sono perso in una dimensione alienata della vita separata appunto dalle profondità della mia vera natura del mio vero io del mio sé più autentico sono separato anche dalla pienezza della natura che per Dante è la natura cristica cioè dell'uomo compiuto dell'uomo realizzato dell'uomo che sa amare e sa tenere in conto la giustizia dell'uomo che combatte per la giustizia e che ama insieme e che è in un contatto costitutivo anche con il mistero che lo trascende ecco in qualche modo essere nella selva oscura vuol dire essere dimentichi di questa natura profonda essere nella selva oscura però significa anche essere nella selva oscura dell'umanità cioè essere in una situazione che non è solo personalmente alienata è manchevole ma è una situazione di umanità che è manchevole è una situazione in cui l'umanità ha smarrito la sua retta via e in cui l'umanità quindi si trova in uno stato di coscienza separativo egocentrato egoista e alienato ecco la selva oscura in qualche modo è questo anche quindi la selva oscura è connotabile naturalmente con tutta una serie di negatività e sentite come risuonano in modo forte queste parole oggi la selva oscura che cos'è è dura è selva è selvaggia è forte c'è paura c'è amarezza c'è morte sono tutte parole che sentiamo come dire molto vive in questo momento in verità il nostro tempo è un tempo che purtroppo ha coltivato queste parole ha dimenticato le dimensioni più profonde della realtà e quindi queste parole che adesso risuonano in noi vista la situazione di disagio vista la situazione di difficoltà che stiamo vivendo in verità hanno come dire hanno una storia più antica e quello che vediamo adesso è un'esplosione di selva oscura che sembra paralizzarci dall'altra però capite anche che il mi ritrovai del secondo verso è anche lì una chiave di questo cammino mi ritrovai significa che quasi io mi trovo per caso dentro questa cosa ecco nella situazione infernale a me sembra di trovarmi per caso dentro una situazione brutta mi sembra fatale mi sembra che io non ne ho colpa perché mi trovo qui dentro che colpa ho io di trovarmi in questa selva oscura ci sono finito per caso ecco questa situazione infernale è anche una situazione di mancanza di consapevolezza è una situazione di mancanza di coscienza e questo è il punto che significa questa selva oscura nel suo aspetto negativo e allora io mi ritrovo per cioè mi ritrovo dentro attraverso questa selva oscura dentro le sue spire incapace in qualche modo di uscire di capire e soffocato da questi sentimenti da queste emozioni negative paura durezza asprezza morte ecco dall'altra però già il poeta ci sta dicendo che questa selva oscura è qualche cosa d'altro perché se è vero che io mi smarrisco dentro questa selva oscura di alienazione dall'altra io anche ritrovo me attraverso questa selva oscura e questo passaggio fondamentale è chiarissimo quando noi arriviamo al verso 8 dove c'è quella versativa straordinaria ma per trattare del bene che io lo vai dirò delle altre cose che io vi ho scorte allora quindi questa selva oscura da una parte è tutta questa serie di sconnessioni che ho provato a descrivervi e dall'altra però la selva oscura è anche una straordinaria opportunità è la straordinaria opportunità di iniziare a vedere se stessi in un modo diverso e di iniziare a vivere un cammino di profonda rettificazione e di trasformazione e infatti è chiaro che entrare in questa zona di morte in qualche modo potremmo dire è quasi indispensabile ecco questo è il punto importante è chiaro che noi miriamo al colle il colle che abbiamo intravisto al verso 13 questo colle che ci riporta a una dimensione di altezza di verticalizzazione perché noi siamo fatti per crescere per verticalizzarci per innalzarci noi siamo fatti per questo siamo fatti per trascendere siamo fatti per amare siamo fatti per vivere le quattro stelle che illumineranno il volto di Catone le quattro virtù cardinali noi siamo fatti per essere creature purgatoriali cioè capaci di trasformarci e addirittura diventare creature paradisiache cioè creature compiute integrate nella loro profondità in contatto profondo con ciò che è più dentro di noi in contatto profondo con i fratelli e con le sorelle in contatto profondo con la natura e in contatto profondo con il mistero che tutto pervade ecco questo in qualche modo è quello a cui noi aspiriamo ma questo viaggio diretto verso il colle che è quello che Dante intravede cioè Dante trovandosi in questa selva oscura vuole andare verso questo colle e questo colle rappresenta già simbolicamente il purgatorio non è effettivamente il purgatorio perché il purgatorio è situato nell'altra parte dell'emisfero qui siamo nell'emisfero settentrionale boreale dove si trova Gerusalemme nella geografia dantesca e il purgatorio è invece dall'altra parte dell'emisfero è nell'emisfero australe e quindi Dante non può vedere realmente il purgatorio ma Dante vede già questa possibilità di trasformazione di innalzamento e di verticalizzazione e allora che cosa fa? va verso il colle va verso il sole ecco tra l'altro osservate e questo credo che veramente risuoni profondamente dentro di noi se siamo attenti a tutto quello che ci sta succedendo osservate come fin dall'inizio del poema la natura sia fondamentale in tutto questo testo la selva anche se è un'immagine ambigua dialettica è un'immagine di una grande foresta e poi c'è un colle e poi c'è il sole che lo illumina e poi sappiamo da questo primo canto che è la primavera e poi si pareranno di fronte a Dante tre giganteschi animali spaventosi ma straordinari anche nella loro fierezza nella loro forza nella loro potenza almeno i primi due che sono la lonza pantera o lince che sia e il leone la terza la lupa è la più problematica e su questo un attimo mi soffermerò allora Dante comunque va verso questo colle in questa via diretta cioè si è accorto della selva oscura di cui non si era reso conto fino ad allora quindi sfruttiamo anche questo momento che stiamo vivendo anche questo momento difficile di selva oscura per renderci conto per mettere in discussione le nostre vite noi stessi i nostri ritmi il mondo che ci troviamo di fronte accorgiamoci delle cose il vero inferno è non accorgersi il viaggio di Dante è iniziato in questo momento in cui si è accorto si è accorto di trovarsi qui dentro però dall'altra qual è la tentazione la tentazione è immediatamente quella di sgusciare fuori da questa selva oscura e andare direttamente verso il colle ecco noi sappiamo bene che cosa succederà che Dante non riuscirà a fare questo cammino diretto questo cammino diretto è impossibile per tante ragioni potrei dirvi intanto che non è possibile perché archetipicamente il cammino di Dante è strutturato sul dinamismo cristico cioè il dinamismo cristico che è il dinamismo dell'incarnazione della discesa della discesa agli inferi della risurrezione e dell'ascensione ecco pensate all'inferno come incarnazione e discesa purgatorio risurrezione e paradiso ascensione queste che sono tre tappe fondamentali della vita del Cristo badate bene questo è il punto forse più importante di tutto quello che vi ho detto questa sera è qualche cosa che non riguarda soltanto il Cristo ma che riguarda l'uomo in quanto tale ecco questo dinamismo di trasformazione per cui noi ci incarniamo discendiamo risorgiamo e ascendiamo badate bene non solo nella vita che verrà ma in questa vita è il punto più importante della commedia e Dante ci dice che questo non è privilegio di pochi non è privilegio di pochi mistici non è il privilegio di pochi ignostici non è il privilegio di pochi aristocratici di pochi iniziati non è di un'elite ma è la vocazione di tutti questa è la vera vocazione di tutti questo è quello a cui noi siamo chiamati ecco soltanto che per compiere questo straordinario cammino noi non possiamo andare direttamente al colle la tentazione di Dante ma dobbiamo scendere infatti che cosa capita in questo primo canto capita che Dante si trova sbarrata la strada da queste tre belve dalla lonza una dinamica di istinti di lussuria di forze sessuali di energie telluriche potremmo dire che ci abitano si trova davanti il leone tradizionalmente probabilmente la superbia ma anche tutto il mondo delle emozioni dei sentimenti che non riusciamo a gestire un mondo che può diventare violento e poi si trova davanti la lupa la più problematica di queste belve che in un'accezione potremmo considerare una mente negativa una mente curva su se stessa una mente ingannatrice una mente che mente dice insomma un discusso maestro della spiritualità contemporanea Osho si trova di fronte una mente che è capace di tradire di frodare e quindi queste tre forze si oppongono e Dante deve compiere un cammino di discesa deve compiere un altro viaggio glielo dirà così la sua guida ecco un'altra cosa fondamentale che questo cammino non lo possiamo fare da soli non ci salviamo da soli è frantumato completamente il triste individualismo l'antropologia dell'uomo miserabilis che ci è stata proposta in questi decenni dell'uomo che vince dell'uomo che prevarica sull'altro soltanto insieme noi usciamo e soltanto insieme ci salviamo soltanto con un maestro con dei maestri ma con una cordata di fratelli e di sorelle noi compiamo questo cammino e allora sarà proprio il maestro Virgilio a spiegare a Dante che deve scendere agli inferi deve scendere agli inferi e allora inizia questa grande discesa dalla selva oscura agli inferi dentro la selva personale e la selva collettiva e allora io vedrò la mia ignavia vedrò la mia lussuria come Francesca vedrò la mia faziosità come Farinata vedrò le mie pulsioni suicide come Pier della Vigna vedrò la mia ansia di dominio come è bene esemplificato in Ulisse ecco quando prima vi dicevo che il dinamismo di arrivare direttamente alla al colle è un dinamismo perverso che non funziona questo dinamismo nella commedia è interpretato da Ulisse Ulisse è colui che vorrà compiere il viaggio diretto senza scendere senza andare in profondità senza entrare nella dimensione contemplativa dell'esistenza senza entrare in se stesso ecco la tragedia in qualche modo di Ulisse è la tragedia di ciascuno di noi è la tentazione di ciascuno di noi è la tentazione di Dante in primis ricordatevi anche che tutti i personaggi della commedia sono specchi sono specchi in cui si specchia Dante che rappresenta se stesso e rappresenta l'umanità e allora questo è in qualche modo il cammino questo cammino vi dicevo che significa anche andare nelle zone più buie incontrare Ugolino il divoratore degli altri il divoratore dell'altro il divoratore dei figli poco importa se metaforicamente o simbolicamente o fisicamente anzi conta di più il divorare appunto metaforico simbolico ecco vedere tutte queste cose distaccarsi da tutte queste cose questo è il in qualche modo la la prima grande parte del viaggio ecco considerate anche che l'inferno lo accenno soltanto così come la selva oscura da una parte significa tutto un come dire un mondo di negatività interiori e del mio tempo che io devo allontanare da me e che io devo vedere dall'altra l'inferno è l'assunzione anche di tutta la nostra umanità nei suoi aspetti più istintuali nei suoi aspetti più inconsci in quelle energie che non sono negative e da uccidere ma che sono energie da lavorare con le quali lottare ecco mi sembra anche molto importante farvi sottolineare questo che il cammino di Dante non è un cammino di guerra ma è un cammino di lotta almeno nella zona infernale non guerra ma lotta è molto differente anche in questi giorni abbiamo sentito che dovevamo fare guerra contro questo nemico no togliamoci queste metafore capiamo che invece è una lotta perché da questo cammino da questa selva oscura apprendiamo anche tutta una serie di cose straordinarie ecco nell'ultima parte negli ultimi versi del canto 34 dell'inferno noi abbiamo il passaggio che ci porta finalmente al risveglio di purgatorio ma questi pochi versi di inferno 34 li voglio leggere con voi per poi iniziare se avete pazienza ma ne avete avuta con tutti i guai che ci sono stati la lettura di purgatorio 1 e sottolinearvi nel quale voglio sottolinearvi alcune cose adesso il tempo è volato e potremmo stare qui tutta notte a leggere purgatorio 1 però che cosa succede che questo grande cammino di discesa è arrivato addirittura di fronte a lucifero l'incontro misterioso raggelante con lucifero e adesso dante e virgilio stanno risalendo questo canale misterioso questa natural burella che li porta verso il purgatorio è sabato santo è il 9 aprile e dante sta per uscire il 10 aprile pasqua di risurrezione in purgatorio sentite questi versi lo duca e io per quel cammino ascoso nascosto entrammo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver d'alcun riposo salimmo su e il primo e io secondo tanto che io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle ecco capite adesso sei arrivato al colle quel colle che abbiamo intravisto nei primi versi dell'inferno ecco che adesso arrivi al monte del purgatorio ecco che adesso intravedi tutto quello che devi intravedere perché hai compiuto questo straordinario cammino di discesa questo straordinario cammino che in fin dei conti significa che devo scendere dentro questa selva oscura e osservare tutte le incompiutezze mie e della realtà per assumerle in qualche modo e per portarle a compimento ecco e così si apre il nuovo inizio straordinario di purgatorio 1 che cos'è purgatorio in generale e che cos'è purgatorio 1 allora purgatorio è il regno del rinizio purgatorio è il regno della relazione che rinizia con la natura con l'altro non sarà più una persona da sbranare l'altro ma lo chiamerai frate lo chiamerai fratello tenterai un cammino di liberazione insieme il cammino del purgatorio è il cammino che ha la libertà intesa come liberazione al suo centro il cammino del purgatorio è quello che riscopre l'arte la poesia la musica l'amicizia è quello che riscopre il mare le stelle il sole la vicinanza con le cose essenziali dell'esistenza il cammino del purgatorio è quello che riscopre il corpo il cammino del purgatorio naturalmente in Dante è sempre una riconnessione con il mistero divino io non lo so amiche e amici che mi state seguendo quali sia il nostro rapporto con il mistero divino certo la nostra epoca fa fatica a relazionarsi con questo mistero però facendo Dante questo mistero noi lo troviamo presente in ogni istante oggi il mio amico Mirko Cittadini ha fatto una magnifica lezione su Paradiso 1 e ha parlato di questo divino che vuole penetrarti di questo divino che vuole entrare dentro di te di questo divino che vuole che tu diventi un vaso perché lo possa accogliere ecco questo divino nel purgatorio in purgatorio 1 rinizia a risplendere quindi quel meraviglioso paesaggio che noi vediamo e che adesso leggeremo in questo canto sublime e straordinario è un paesaggio da una parte completamente terreno ma proprio perché è completamente terreno e anche straordinariamente trasparente ha una dimensione trascendente una dimensione trascendente che da una parte lo trascende completamente ma che dall'altra ha bisogno di questa immanenza per manifestarsi e allora ecco perché il cammino di Dante in questo canto lo sentirete come un cammino meditativo contemplativo capace di silenzio un cammino in cui Dante vive quasi una liturgia una ritualità poi alla fine del canto c'è una ritualità ma proprio questo è quello che Dante vive e ricordatevi quello che vi dicevo prima nella cronologia della commedia anche se questo è dibattuto ma io sono abbastanza sicuro di questa e anche la maggior parte dei commentatori è sicura di questo ci troviamo nella Pasqua di Ressurrezione e Dante non è morto quindi la Pasqua di Ressurrezione non riguarda la vita che verrà che pure interessa a Dante evidentemente una dimensione scatologica ma riguarda l'adesso e la Ressurrezione della carne che è così importante nella commedia la carne il corpo la Ressurrezione della carne non è qualcosa che verrà quando la mia carne fisica è polverizzata ci sarà pure quella ma è qualcosa che Dante già vive adesso il suo corpo risorge e il corpo dell'inferno invece era un corpo diviso tagliato era un corpo come quello di Bertrand de Bourne dove io potevo avere la testa in mano separata dal resto del mio corpo era il corpo appunto dei seminatori di scismi e di zizzania era un corpo massacrato un corpo alienato un corpo con il quale io non ero in contatto e invece il corpo di Purgatorio è un corpo che torna a essere abitato allora che cosa leggiamo in questo primo canto stupendo intanto questo primo canto stupendo immaginate di poterlo dividere essenzialmente in quattro parti da una parte leggiamo un proemio che va dai verso 1 al verso 12 che è un proemio di innalzamento di ressurrezione di ritorno alla vita è quello di cui noi abbiamo bisogno noi abbiamo bisogno di rinascere anche come italiani con il nostro padre Dante che ci conduce a questa rinascita a questo risveglio mistico critico e politico ci risvegliamo alle profondità di noi stessi ci risvegliamo in una antropologia che sia vera che sia solidale ci risvegliamo un rapporto profondo con la natura perché altrimenti amici miei la natura ce la fa pagare anche se noi continuiamo a distruggere la natura colpire la natura a essere alienati dalla natura la natura giusto che sia ce la fa pagare e lo vediamo anche in questi giorni che succede così leggere la commedia in età di collasso climatico io dico di capitalocene di distruzione sistematica della natura è qualcosa che fa tremare le vene i polsi ecco ricordatevi che è l'inferno il luogo in cui io non ho rapporto con la natura infatti appena abbandonata la selva scura e appena io scendo nella cavità infernale io sono in qualche modo in un mondo artificiale causato dalla caduta di lucifero e sono senza luce sono senza sole sono senza giorno e senza notte sono in un mondo che non ha il tempo che non ha il ritmo e questo è il mondo infernale il mondo infernale è un mondo che non ha ritmo è un mondo oggi diremo come il nostro tempo infernale adesso il nostro tempo è in stallo e quindi possiamo riflettere su come lo utilizziamo in genere ma in genere è un tempo che non ha più ritmi naturali e invece il tempo che verrà riscoperto in purgatorio è proprio il tempo dell'alba del sole che sorge del sole a mezzogiorno del sole che inizia a calare della notte ecco in purgatorio 1 nei primi 12 versi si descrive questo rinnalzamento e questa resurrezione poi dal verso 13 al 27 c'è questo incanto del paesaggio straordinario che Dante riscopre questo paesaggio fisico ma che è anche un paesaggio che parla all'uomo e nel quale si manifesta la luce divina e poi abbiamo l'incontro con questo personaggio straordinario di cui potremmo parlare ma altro che una sera potremmo fare un altro incontro ammesso che la connessione ce lo permettesse che è Catone questo probabilmente custode del purgatorio questo pagano suicida che ha dato la sua vita ha ritenuto più importante la libertà della sua vita non ha avuto paura della morte e ha donato generosamente la sua vita per un ideale di libertà e di liberazione era un pagano suicida e pensate Dante ne fa una sorta di santo un santo pagano che è presente fin dall'inizio che si presenta come un vecchio patriarca ecco qui avete anche la genialità di Dante di tenere insieme le culture tante volte si dice che il paganesimo è molto importante in Dante ma che poi è sempre superato dal cristianesimo e questo da una parte è vero ma dall'altra Dante ha bisogno costantemente anche del paganesimo e paganesimo e cristianesimo sono come dire culture diverse ecco una cosa che mi sono dimenticato di dirvi che oggi 25 marzo 2020 è Dante D ma è anche la giornata proclamata in Libano per esempio dell'amicizia tra i musulmani e i cristiani è il giorno naturalmente dell'incarnazione e dell'annunciazione di cui parla anche il corano nella sura 19 mariam maria maria è venerata straordinariamente anche nel corano ecco quindi Dante è un collettore di culture e quindi questo paganesimo da una parte è vero che è superato dal cristianesimo ma dall'altra il paganesimo sotto alcuni punti di vista illumina il cristianesimo di Dante potremmo dire quasi che paganesimo e cristianesimo se mi permettete questo strano paragone sono un po' come l'antico e il nuovo testamento della Bibbia in genere si dice che il nuovo testamento compie l'antico testamento quindi l'antico testamento sarebbe superato ma questa non è una lettura corretta aveva ragione il grande Bonhoeffer il grande teologo martire protestante quando diceva che certo il nuovo testamento porta compimento delle cose dell'antico ma dall'altra io costantemente devo anche leggere il nuovo testamento alla luce dell'antico in un gioco in cui come fossero due organi due polmoni due reni che hanno una ritmica e quindi sia pure che il paganesimo da una parte è superato dal cristianesimo ma senza paganesimo il cristianesimo di Dante è manchevole e voi vedete questo catone quest'uomo che ha dato la sua vita che rappresenta il meglio della romanità ma che dall'altra sembra anche un santo un patriarca biblico ed è come se il cristianesimo e il paganesimo si fossero mescolati insieme in catone ecco questo catone si presenta al nostro Dante al nostro Virgilio con una severità è un uomo delle virtù cardinali è l'uomo della fortezza è l'uomo della prudenza della giustizia e della temperanza queste quattro luci che risplendono è un uomo che rinasce è un uomo forte ecco amici miei Dante ci dice anche che per uscire da questa selva oscura dobbiamo recuperare la fiducia in noi stessi dobbiamo recuperare la fiducia nelle virtù che sono così vilipese in questo sistema folle quasi che essere virtuoso uno sia un cretino bisogna recuperare una nobile dimensione guerriera anche per uscire da questa da questa selva oscura che ci imprigiona questo è anche uno dei delle grandi lezioni di questo canto e anche Dante via via sempre più si fortifica nel suo cammino vedrete che Dante da una parte riscopre queste virtù guerriere in Catone e dall'altra anche un bambino in questo canto un bambino meravigliato un bambino che si meraviglia di tutto un adulto che riscopre queste dimensioni contemplative della vita ecco il nostro Catone sgrida Dante e Virgilio gli chiede perché sono lì e Virgilio fa inginocchiare Dante e spiega e riassume il senso del cammino ricordatevi che Inferno 1 e Purgatorio 1 per questo anche li ho scelti sono strettamente connessi tra di loro come tutto il mondo della commedia è connesso ma io adesso alcune cose del primo canto dell'Inferno le posso capire soltanto nel primo canto del Purgatorio che naturalmente è connesso anche con Ulisse perché vi dicevo che Ulisse è colui che ha tentato il viaggio diretto la via diretta senza scendere potrei anche dire che il cammino che Dante ci ha descritto è un cammino anche di lentezza riscopriamo questa straordinaria bellezza della lentezza e non della velocità che tutto vuole conquistare che tutto vuole avere immediatamente ecco Virgilio spiega il senso di questo cammino di liberazione che anche Dante sta compiendo e a questo punto Catone potremmo dire dà la sua benedizione a questo cammino di questi due pellegrini e soprattutto a quello di Dante e spiega loro che devono compiere un rito un rito di purificazione un rito battesimale che si compie nell'ultima parte del canto ecco adesso leggo con voi questo canto voi come andate riuscite a seguirmi? perché io adesso sono partito va tutto bene? io in genere ho bisogno del contatto con le persone che sono di fronte a me funziona tutto? vabbè speriamo di sì allora io leggo poi tanto chi è stanco se ne va a un certo punto tutto benissimo prof va bene allora leggiamo voi l'avete lì vero? percorrer miglioracque alza le vele o mai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé marsicruzioni e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno ma qui la morta poesì resurga o sante muse poiché vostro sono e qui calliopè alquanto surga seguitando il mio canto con quel suono di cui le picche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono dolce color d'oriental zaffiro che si accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro agli occhi miei ricominciò di letto tosto che uscì fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto lo bel pianeto venere che da mar conforta faceva tutto rider l'oriente velando i pesci che erano in sua scorta io mi volsi a mandestra e puosimente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuor che alla prima gente goder pareva il ciel di lor fiammelle o settentrional vedo vossito poiché privato sei di mirar quelle com'io da loro sguardo fui partito un po' come volgendo all'altro polo la onda e il carro già era sparito vidi presso di me un veglio un vecchio ieratico solo degno di tanta reverenza in vista che più non dea padre alcun figliuolo lunga la barba e di pel bianco mista portava i suoi capelli simigliante dei quai cadeva al petto doppia lista li raggi delle quattro luci sante fregiavansì la sua faccia di lume chi il vedea come fosse il sol davante chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita avete la pregione eterna di sel movendo quelle oneste piume chi va guidati o chi vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera farà notte la valle inferna sono le leggi d'abisso così rotte o è mutato in cel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte lo duca mio allor mi diedi piglio e con parole con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe e il ciglio poscia rispose lui da me non venni donna scese del ciel per li cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni ma da che tuo voler che più si spieghi di nostra condizione come ella è vera esser non puote il mio che a te si nieghi questi non vide mai l'ultima sera ma per la sua follia le fossi presso che molto poco tempo avvolger era siccome io dissi fui mandato adesso per lui campare e non gli era altra via che questa per la quale io mi son messo mostrata o lui tutta la genteria e ora intendo mostrare quegli spiriti che purgan sé sotto la tua balia sotto la tua autorità come io l'ho tratto sarei a lungo a dirti dell'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo a vederti e audirti or ti piaccia gradir la sua venuta libertà va cercando che è si cara come sa chi per lei vita rifiuta tu sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la vesta il corpo che al grandì sarà si chiara non son gli ditti eterni per noi guasti che questi vive e minos me non lega ma son del cerchio sono del limbo ove son gli occhi casti di marzia tua che in vista ancor ti priega o santo petto che per tua la tegni per lo suo amore adunque a noi ti piega lasciane andare per i tuoi sette regni grazie riporterò di te a lei sed esser mentovato la giudegni marzia piacque tanto agli occhi miei mentre che io fui di là disse allora che queste grazie volse da me fei or che di là dal malfiume dimora più muover non mi può per quella legge che fatta fu quando me n'usci fora ma se donna del ciel ti muove e regge come tu dì non c'è mestier lusinghe basta si ben che per lei mi richegge va dunque e fa che tu costui riccinghe d'un giunco schietto e che li lavi il viso si cogni sucidume quindi stinghe pulisca che non si converria l'occhio surpriso d'alcuna nebbia andar dinnanzi al primo ministro che di quei di paradiso quest'isoletta intorno adimo adimo la giucola dove la batte l'onda porta di giunchi sovra il molle limo null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi puote aver vita però che ha le percosse non seconda poscia non sia di qui vostra reddita il vostro ritorno lo sol vi mostrerà che sorge o mai prendere il monte a più lieve salita così sparì e io su mi levai senza parlare e tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui drizzai el cominciò figliuol seguimi ai passi volgianci indietro che di qua di china questa pianura ai suoi termini bassi l'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi sì che di lontano conobbi il tremolar della marina noi andavam per lo solingo piano com'on che torna la perduta strada che infino ad essa li pare ire invano quando noi fummo la ove la rugiada pugna col sole per essere in parte dove ad orezza all'ombra poco si dirada ambo le mani sull'erbetta sparte suavemente il mio maestro pose on dio che fui accorto di sua arte porsi per lui le guance lagrimose ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose venimmo poi in sullito diserto che mai non vide navicar sue acque omo che di tornarsi a posce esperto qui vi mi cinse si come altrui piacque o maraviglia che quale l'inscelse l'umile pianta cotal si rinacque subitamente la onde la velse ecco questo canto straordinario che spero che voi abbiate davanti e che abbiate potuto gustare adesso io vediamo ho perso anche un po' la cognizione del tempo dedico qualche minuto a mostrarvi alcune cose di questo canto straordinario che come vi dicevo prima è il canto della risurrezione è il canto della risurrezione è il canto del ritorno dell'umano è il canto dell'umano che si risveglia a tutte le dimensioni della realtà ed è dell'umano che si cristifica dell'umano che si compie dell'umano che diventa realmente tale ci siamo abituati a considerare umano ciò che è infernale e invece l'umano inizia da qui soprattutto se l'inferno significa la predazione il dominio la distruzione ricordatevi anche che l'inferno in Dante è costruito sul regno della lupa di cui non ho ancora parlato ma la lupa è quella bestia tremenda che da una parte rappresenta una mente alienata distruttiva e dall'altra rappresenta la cupidigia il desiderio di dominio di potere la storia è assata sulla cupiditas e Dante cerca di riassarla sull'amore e sulla conoscenza anzi Dante cerca di riassarla su sapienza amore e virtute come dirà nel primo canto dell'inferno e questo è quello che sta succedendo in purgatorio e questo è quello che può succedere a ciascuno di noi ed è quello che dobbiamo costruire intorno a noi ecco questo è il grande sogno di Dante questa è la grande è la grande utopia di Dante dove utopia non ha il significato di qualche cosa di fumoso non ha il significato di qualche cosa di realizzabile ma di quel sogno che dà carburante alla vita e che permette alla vita di incarnarsi e di diventare migliore così che noi ci immegliamo come dice Dante si immegli dice in paradiso che entrando nell'onda nell'onda del divino tutti immegli diventi migliore e questo è quello che in qualche modo succede e inizia a succedere in questo canto perché ho scelto questo canto in fin dei conti perché per quanto le vette straordinarie e luminose del paradiso mi piacciono moltissimo e sono quelle che ormai mi emozionano di più ho sentito che questo passaggio dalla selva oscura a questo risveglio profondo fosse quello di cui avevamo bisogno in questo momento e Dante ce lo dice per correre migliori acque alza le vele ormai la navicella del mio ingegno alziamo le vele amici e amiche che mi state ascoltando e lasciamo dietro a noi un marsi crudele questo è anche il mar rosso il mare della schiavitù ricordatevi che la commedia è anche assata sull'esodo il grande libro biblico e che cos'è l'esodo l'esodo è un cammino di liberazione interiore ma è un cammino anche di liberazione esteriore è un cammino di liberazione sociale politica è un cammino anche di ricongiungimento con il mistero divino questo è l'esodo e quindi noi abbandoniamo le acque del mar rosso è il mar si crudele il mare infernale e canterò sentite come si eleva il canto di Dante come si eleva la speranza quando usciamo dalle dinamiche infernali ricordatevi anche amici che nell'inferno le nostre energie sono basse sono predate e non sono utilizzabili per il cammino soltanto dal purgatorio in avanti queste energie che nell'inferno erano bloccate iniziano a salire e a verticalizzarsi e così alziamo le vele verticalizziamo facciamo salire l'energia chi si intende di oriente sa che cosa vuole dire innalzare le energie fare salire l'energia attraverso i canali del nostro corpo questo è anche lo yoga di Dante dell'esodo che Dante ci fa fare e quindi noi diventiamo di salire al cielo degni perché questa è la nostra natura questa è la dignità dell'uomo di diventare degni del cielo ma non morendo ma già qui sulla terra e allora che cosa deve fare la morta poesia deve risorgere ecco la resurrezione la resurrezione del Cristo riguarda il qui e l'ora è l'inferno che ci fa credere di essere soli separati abbandonati che ci fa credere che le dimensioni dell'umanità della natura e del mistero siano separate e invece queste dimensioni sono interconnesse e noi possiamo continuamente riscoprirlo dentro e fuori di noi e così risorgiamo e chi è che aiuta Dante le sante muse ecco vedete che questo è il cristianesimo pagano il paganesimo cristiano di Dante o sante muse poiché vostro sono sono consacrato a voi ho dato tutto a voi e Dante ha donato tutta la sua vita in questa straordinaria lettera d'amore che ci ha consegnato perché noi ci trasformassimo ecco ci ha consegnato questa lettera da vivere amici miei da vivere perché noi perdonate mi sono commosso ma è questo il punto quindi questa dedizione alle muse questo dono che Dante ci ha fatto uscire dal regno della lupa vuol dire uscire dalla predazione dell'altro della natura di se stessi e invece entrare nell'ottica del dono che è quella che ci fa fruttificare il dono non è il sacrificio il dono non è il cattivo sacrificio la mortificazione di sé il dono è l'esplosione dei propri talenti Dante è esploso nel suo talento donandoci questa straordinaria meraviglia questo è quello che ha fatto Dante è un albero che fruttifica la commedia è un grande albero che fruttifica questo capite per questo Dante è questo genio generoso che ci aiuta in questo momento scusate ma mi riprenderò però sono dentro questo trip di commozione non immaginavo di commuovermi via facebook ma Dante riesce a fare anche questo ecco allora capite che c'è questa elevarsi e qui Dante cita poi un mito di Ovidio questa sfida tra queste nove figlie del re di Tessalia o di Macedonia Pierio Pierio e le muse ed è uno scontro tra la superbia e l'umiltà queste figlie che osano sfidare le muse che osano sfidare il divino ma in un modo tracotante e quindi finiscono ad essere delle gazze finiscono ad essere degli uccelli che fanno un verso stonato ecco quindi questa è quella resurrezione che ci chiama e poi sentite a questo punto dal tredicesimo verso in avanti la riscoperta straordinaria di questo paesaggio che fa Dante e questa è una cosa bellissima anche perché ciascuno di noi ha vissuto dei momenti così e sono i momenti che nutrono la nostra vita sono momenti di resurrezione sono momenti di umanità sono momenti di grazia e allora Dante cosa vede vede il dolce color d'oriental zaffiro c'è un altro simbolo di resurrezione qui lo zaffiro perché capite per Dante come per i medievali le pietre sono vive le pietre hanno qualcosa del divino anche loro il divino eccede costantemente va oltre va oltre costantemente ciò che si manifesta ma dall'altro pervade tutto in alcune zone più e meno altrove come oggi spiegava Mirko e quindi lo zaffiro era considerata una pietra di salvezza una pietra di integrità e quindi questo zaffiro che cos'è? il cielo dell'alba che sta sorgendo che si accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro fino al primo giro e che cosa succede a Dante? sentite questo verso 16 agli occhi miei ricominciò di letto ecco la vera spiritualità la vera spiritualità di Dante integrale che può essere capita da tutti laici credenti non credenti è una spiritualità che sa coniugare il piacere anche un piacere fisico quello che Dante sta vivendo naturalmente di letto è anche una parola molto delicata è un piacere psicologico è anche un piacere spirituale nel mondo di Dante il corpo l'anima e lo spirito sono connessi e Dante nell'inferno noi non lo capiamo questo perché siamo tutti sconnessi nel purgatorio iniziamo a riscoprire che il nostro corpo la nostra psiche e questa dimensione misteriosa che può essere chiamata spirito si interconnettono allora provi un piacere fisico psicologico e spirituale che ti allarga gli occhi miei ricominciò di letto tosto che io usci fuori dell'aura morta quest'aria morta sentite com'è forte noi che siamo io sono non tutti voi io sono in Lombardia adesso allora l'aura è morta qui ma è morta da mo non è morta solo per il virus è un'aria che non è più vera che non è più un nutrimento e allora è un'aria morta è un'aria infernale è un'aria che non può più essere trattata così è un'aria che non può più nutrirci e che cosa fa un'aria così che mi aveva contristati gli occhi e il petto mi rende tristi gli occhi il petto il cuore il respiro Dante torna a respirare Dante si rimpossessa del suo corpo il rimpossessarsi del suo corpo inizia a essere la resurrezione della carne la resurrezione della carne inizia adesso inizia in questo momento è il Cristo che è sempre presente nella commedia capite perché Dante non incontra Gesù lo vede soltanto vede il trionfo di Cristo in paradiso 23 perché il Cristo è l'archetipo su cui è costruita tutta la commedia ed è quello che noi dobbiamo diventare è per questo che Dante non incontra Gesù perché il Cristo è onnipresente nella commedia ed è il destino di ogni essere umano e non è una cosa speciale capite cioè Dante ci dice che questa non è lo ripeto lo dicevo prima non è la vocazione di pochissimi è la vocazione di tutti è la vocazione delle muliercole delle donnine delle persone semplici che si riavvicinano a queste realtà profonde e alcune volte sono le realtà che i dotti non capiscono anche se Dante era dotto è semplice insieme e quindi allora la dottrina serve in questo caso e non lo so se voi mi vedete male io ormai ho perso contezza di cosa succede parlo e ogni tanto leggo i vostri commenti e vi ringrazio perché vedo che siete contenti nonostante tutti i casini che sono sono successi questa sera allora vi dicevo insomma questo tornare a respirare amici torniamo a respirare ecco mi viene anche da dirvi volevo dirvi anche questo no cosa ci fa riscoprire Dante in questo canto del purgatorio ci va ci fa scoprire che non andrà tutto bene perché se andrà tutto bene io sono nel futuro ma io perdo il presente e Dante sta vivendo un momento di ressurrezione adesso allora va tutto bene riscopro delle cose importanti ora in questo momento della mia vita in questo tempo di quarantena inizio a scoprire delle cose importanti della mia vita inizio a scoprire il sole le stelle soprattutto se le potete vedere perché qui non si vedono inizio a riscoprire le cose essenziali dell'esistenza ora e poi andrà anche tutto bene ma ora inizio a riscoprirle perché Dante non aspetta la risurrezione del suo corpo dopo ma la vive adesso in questo momento vive la risurrezione del suo corpo ecco il punto importante ecco che cos'è la dimensione contemplativa della vita no e questo vivere adesso già una pienezza persino in un tempo così scempio posso iniziare a vivere una pienezza se mi riconnetto alle cose essenziali e importanti della vita ecco quindi allora andrà tutto bene ma va tutto bene va tutto bene va tutto bene perché io inizio a a rientrare in me e rinizio a ricollegarmi rinizio a ricollegarmi a tutte le dimensioni e allora va tutto bene e vedete che continua questo spettacolo straordinario della natura venere che induce all'amore faceva tutto rider l'oriente ecco capite che cos'è anche il purgatorio il purgatorio è la riscoperta dell'oriente da una parte perché riscopri l'oriente semplicemente perché il sole nasce a oriente ma riscopri l'oriente anche perché riscopri la dimensione originaria dell'esistenza quella da cui viene il sole non è contrapposto all'occidente l'oriente abbiamo bisogno di tutti e due ma Dante qui riscopre l'oriente la resurrezione inizia da qui riscopre l'oriente che è dentro e fuori di sé e cosa fa quest'oriente? ride l'oriente velando i pesci che erano in sua scorta se Venere vela i pesci vuol dire che sta sorgendo il sole che sarà in ariete siamo in primavera come adesso è la primavera di Pasqua è la primavera della resurrezione alla quale noi aneliamo e che cosa fa Dante? allora si volge a mano destra si volge a mano destra come nell'inferno quasi sempre a parte momenti di eccezione si volgeva alla sinistra la destra qui ha un significato di compimento di completezza e puosimente all'altro polo al polo dove adesso Dante si trova questo nuovo mondo che sta vedendo perché capite? il purgatorio è il cambio anche dello sguardo attenzione però il cambio dello sguardo è interiore ma ha bisogno anche dell'esteriore perché Dante ha bisogno della natura non è solo interiore non è solo interiore ha bisogno della natura ha bisogno di essere in connessione profonda con il cantico delle creature di Francesco che ha celebrato la stessa cosa perché Dante vede in questa natura l'impronta di un mistero più grande come questa impronta è dentro di noi anche e queste tre dimensioni hanno bisogno l'una dell'altra questa è la grande intuizione cosmo-teandrica di Dante come diceva il grande Raymond Panikar cosmo-uomo e Dio e divino che sono strettamente interconnessi e non c'è una dimensione più importante dell'altra perché ciascuna ha bisogno dell'altra anche la dimensione di infinitudine l'impronta di dimensione spirituale è monca senza la natura e senza l'uomo e Dante sta scoprendo questo e vede queste quattro stelle qualcuno dice che siano la croce del sud ma chissà come faceva Dante a sapere della croce del sud probabilmente non c'era mai stato lì anzi quasi sicuramente non c'era mai stato sono quattro stelle che rappresentano anche da una parte una natura sorgiva che io vedo come se fosse la prima volta e dall'altra rappresentano le quattro virtù cardinali l'uomo riscopre la virtù perché l'uomo è uomo se scopre la virtù l'uomo è uomo e l'uomo inizia questo cammino di rettificazione se la prudenza, la fortezza, la giustizia e la temperanza hanno senso allora capite che la selva oscura della lupa il regno della lupa, della cupidigia ha distrutto o vuole annientare le quattro virtù cardinali e allora un mondo che rinasce le deve scoprire ma siamo noi che non dobbiamo più abituarci all'inferno siamo noi che non dobbiamo più accettare che l'inferno sia la normalità qualcuno oggi ha scritto quello che temo è il ritorno alla normalità perché la normalità non era normale ecco non dobbiamo abituarci a un normale che è l'inferno perché non è normale l'inferno e Dante nell'inferno trova anche del bene ma come passaggio ecco allora vede queste quattro stelle e di colpo compare questo catone questo catone significa tante cose tante cose adesso non posso portarvi via troppo tempo significa tante cose da una parte significa appunto ve lo dicevo prima è un pagano che ha dato la sua vita non si è arreso a cesare che in quel momento rappresenta la tirannia rappresenta il tiranno ed è un uomo che ha dice così Dante dice tu il sai verso 73 75 tu il sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la vesta che al grandì sarassi chiara notate che qui compare amare e morte che sono due parole che comparivano nei primi versi riferiti alla selva ecco qui Dante è straordinario Dante catone in verità come lo legge Dante è straordinario anche perché è vero che noi anche oggi viviamo un tempo in cui custodiamo la nostra vita ma qui Dante ci fa anche capire che ci sono persone e che noi stessi possiamo fare questa scelta cioè in qualche modo da una parte di custodire la nostra vita ma dall'altra di donarla e che la libertà può essere persino più grande della tua vita catone qui è un martire è un martire politico che è diventato un martire cristiano e per cui è quasi diventato un martire cristiano qualcosa di straordinario da questo punto di vista ed è un martire salvato perché cosa gli dice Virgilio la tua vesta il tuo corpo nel grandì nel giorno della risurrezione sarà splendente sarà un corpo glorioso ecco guardate che qui Dante è anche furbo perché da una parte sembra dirci che questa risurrezione del corpo si vive solo nel grandì ma dall'altra ci sta descrivendo che questa risurrezione la vivi già adesso è furbo ma in verità è perfettamente ortodosso è perfettamente ortodosso il nostro Dante perché la risurrezione della carne non avviene solo dopo non andrà bene dopo va già bene adesso la nostra carne risorge già adesso in questo momento ascoltando Dante la nostra carne risorge assume un'altra dignità quindi ha ragione Dante a tenere insieme le due cose a tenere insieme una risurrezione che verrà con una risurrezione che è adesso un già e un non ancora ma questo è il punto come noi dobbiamo stare nel già e nel non ancora nel già che viviamo adesso e nel non ancora di un nuovo mondo che dobbiamo costruire anche usciti da questo limbo e questo anche credo l'invito che ci venga da un canto come questo straordinario ecco allora capite che questo catone rappresenta questo rappresenta anche la forza del passato cioè io mi nutro Dante si nutre dei valori del passato si nutre della romanità il passato il presente e il futuro non possono essere scollegati se io sono al centro nel presente essere al centro nel presente vuol dire però mantenere un collegamento nutritivo con il passato ed essere proiettato al futuro non è un presentismo svuotato quello che Dante ci mostra e quindi il nostro catone rappresenta anche questo è un esempio di straordinaria libertà e di liberazione naturalmente Dante lo mostra anche come un saggio pensate che catone potrebbe essere un omologo di Caronte quindi un vecchio infernale nell'inferno invece adesso un vecchio saggio un vecchio da cui imparare un maestro straordinario il purgatorio vuol dire sempre più riscoprire i maestri Dante l'ha scoperto in inferno 1 il maestro Virgilio ma è continua noi risorgiamo se riscopriamo i nostri maestri i nostri maestri sono vivi adesso anche se sono morti Dante è vivo adesso non solo perché il Dante di è presente in questo momento così come ogni nostro caro anche non famoso come Dante è presente adesso il tempo del purgatorio non è più un tempo alienato ma è un tempo pieno che si riscopre pieno e straordinario ecco che cosa avviene insomma in questo e che cosa rappresenta questo catone anche un uomo che onora queste quattro virtù cardinali che in qualche modo lo illuminano ecco e allora cambia naturalmente l'atteggiamento di Dante che assume un atteggiamento di reverenza Virgilio lo invita pressantemente a inginocchiarsi a essere reverente di fronte a questo nuovo mondo che sta nascendo e poi Virgilio racconta in poche terzine riracconta tutto il viaggio in un modo stupendo da me non venni ecco amici miei io credo che anche questo sia un messaggio che questa sera ci dà Dante usciremo da questa situazione con le nostre forze ma non solo con le nostre forze abbiamo bisogno di ricontattare l'unione di queste tre dimensioni della realtà abbiamo bisogno di ricontattare la dimensione della natura abbiamo bisogno di ricontattare la dimensione del mistero Dante che pure è un genio non ha mai detto che il suo viaggio lo ha fatto per l'altezza di ingegno ma lo ha fatto perché è stato aiutato e da che cosa è stato aiutato è stato aiutato dal sole dalle stelle dalla foresta anche dalla selva oscura che poi diventa l'Eden del paradiso sarà la selva dell'Eden e poi diventerà la candida rosa non si esce da questa situazione solo con le proprie forze certo che le proprie forze vanno ricontattate io risorgo dentro di me ma io mi accorgo che ho bisogno della natura e ho bisogno del mistero divino o come lo volete chiamare del vuoto dell'infinito della trascendenza chiamatelo come volete questo da me non venni è fondamentale riscopriamo invochiamo l'aiuto anche in questo momento invochiamo l'aiuto della natura invochiamo l'aiuto delle forze nelle quali crediamo dei nostri cari dei nostri morti se non crediamo a una trascendenza ma anche quello è un modo di onorare la trascendenza cioè ricontattiamo le cose che sono più sorgive per noi e questo quello che in qualche modo sta dicendo Virgilio dice donna scese del cielo Beatrice per li cui prieghi dalla mia compagnia costui sovvenni quindi io non ho fatto questo viaggio da solo e poi guardate che pochi versi dopo Virgilio dirà come io lo tratto saria lungo a dirti dell'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo a vederti e a udirti anche qui pensate che è un pagano Virgilio che tra l'altro sta al limbo e quindi sarebbe in qualche modo dannato che dice che riceve l'aiuto della grazia di Dio è una cosa straordinaria anche questa Virgilio ha bisogno della grazia di Dio per fare questo viaggio lui che è pagano ma sono tutti connessi ormai nel mondo del purgatorio pagani cristiani islamici e di tutte le altre fedi e che non hanno fede ma ricercano autenticamente sono connessi si risvegliano insieme è questo che succede qui ed è follia invece verso 59 dimenticarsi di questo andare contro questo ecco cos'è la follia per la sua follia fossi presso a perdersi alienarsi completamente ecco questo è quello che in qualche modo racconta Virgilio e che cosa racconta ancora io gli ho fatto arrivare a te Catone percorrendo questo straordinario cammino di discesa ho visto con lui tutto quello che dovevo vedere ho visto anche le brutture del regno della lupa mi sono reso conto di tutto ho visto ciò che riguardava me e ciò che non riguardava me ecco che cosa sta raccontando il nostro Virgilio e a questo punto Catone capisce che questo viaggio è un viaggio a cui lui può dare il suo contributo questi non sono due dannati che si sono persi ma sono due persone che stanno rinnovando l'umanità come può fare ciascuno di noi rinnovare se stesso e rinnovare l'umanità e quindi salto ormai arrivo all'ultima parte del canto Catone dice che devono fare un rito di purificazione è una sorta di secondo battesimo ma anche qui vedete è un qualcosa di straordinario perché è un battesimo che si fa a contatto con la natura è un battesimo che si fa con l'acqua dell'oceano che si fa con un giunco ed è un battesimo che unisce il cristianesimo e il paganesimo perché sembra anche un rito di regenerazione pagana quello che sta vivendo Dante cristianesimo e paganesimo ancora una volta si mescolano insieme è un battesimo cosciente non è il battesimo che tu dai al bambino è un secondo battesimo il battesimo cosciente e Dante vive questo battesimo questa purificazione che gli serve per andare avanti in questo straordinario cammino di ascesa che amici sarà faticoso non è solo faticosa la discesa agli inferi Dante ci dice con onestà che abbiamo un cammino duro che ci aspetta anche come italiani come discesa agli inferi ma anche il cammino di resurrezione è un cammino pieno di meraviglie ma difficile complesso arduo dove non saremo soli però dove saremo insieme dove saremo accompagnati e allora termina questo canto con questo rito straordinario capite l'umanità che si ritrova riscopre la dimensione del rito la dimensione del rito la dimensione della liturgia che non è solo la dimensione prettamente confessionale ma è vivere la vita come una liturgia vivere la vita come un'azione sacra vivere la vita come un'azione consapevole tutto può diventare un gesto consapevole sacro se fuori dal regno della cupidigia dell'accelerazione della lupa del capitalismo oggi che devasta e mangia tutto mangia le nostre anime le nostre vite la natura il nostro tempo la nostra fiducia le nostre energie è un rinascere profondo quello che sta vivendo il nostro Dante in questo momento e allora c'è questa scena che è anche di una umanità di una tenerezza straordinaria con Virgilio che bagna le mani sulla rugiada e che pulisce il volto di Dante pieno di smog diremmo oggi pieno di polveri sottili pieno dell'alienazione dell'inferno ed è una ulteriore risurrezione che Dante vive e lo cinge con questo giunco che rappresenta tante cose rappresenta l'umiltà rappresenta la fedeltà alla terra rappresenta la capacità di stare nel ritmo dell'esistenza ma nel ritmo dell'esistenza non quello stuprato e accelerato a cui siamo sottoposti oggi un ritmo tecnocratico ma invece il ritmo profondo dell'esistenza dell'educazione della costruzione di un'amicizia di un amore dell'educare se stessi e di educare un altro che sono tempi profondi della vita che si giocano nell'istante ma che sono anche lunghi ecco e allora Dante riscopre questo e poi riscopre ve lo dicevo anche riscopre il silenzio vanno insieme l'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi si che di lontano conobbi il tremolar della marina noi andavamo per lo solingo piano come on che torna alla perduta strada che infino ad essa li pare ire in vano vedete che la smarrita la dritta via smarrita adesso è recuperata in questo canto nel primo canto del purgatorio si recupera la via smarrita di inferno 1 dopo questa straordinaria discesa la straordinaria discesa agli inferi è anche una crescita al contrario è una crescita delle radici ecco il canto si chiude quindi con una un'immagine apparentemente di annientamento perché la pianta è strappata e Dante si cinge di questa pianta e questa pianta immediatamente rinasce questa è l'alba di una nuova umanità come posso vivere questa nuova umanità io posso vivere questa nuova umanità adesso in questo momento vivendo questo testo cambiando il mio modo non seguendo più il regno della lupa è seguendo sapienza amore e virtute e poi insieme amici e amiche mie girando la storia in un'altra direzione perché la storia oggi è in una direzione sbagliata e quindi insieme dobbiamo fermarla e girarla dall'altra parte non verso il regno della lupa ma verso il regno delle quattro virtù cardinali verso l'amore la conoscenza e la virtù questo è il compito che ci aspetta e allora approfittiamo di queste settimane per meditare profondamente non solo per annoiarci e per in qualche modo riverticalizzare per ridirezionare le nostre esistenze è questo quello che ci attende ed è questo secondo me che Dante ci sta dicendo non solo oggi che il Dante di ma è quello che ha voluto scrivere con il suo cuore con la sua intelligenza con la sua anima con il suo dolore anche e con il suo straripante amore nella in questa grande lettera d'amore conoscenza e virtù che ci ha lasciato ecco in qualche modo ce l'abbiamo fatta voi state bene io adesso bevo anche un goccio d'acqua grazie Sabrina alla fine qualcosa è saltato fuori grazie dei cuoricini a me piacerebbe anche se qualcuno di voi ha qualche domanda io sono contento intanto voi potete scappare ma grazie Giuseppe se avete domande o cose che avete sentito benissimo bene bene grazie a voi Sofia ciao sì Ketty anche questo sì ridare significato certo assolutamente sì grazie grazie a voi prossimo appuntamento e dai ve lo dico speriamo che che vada meglio all'inizio di questo anche se poi ce l'abbiamo fatta e vi faccio sapere vi scrivo su su facebook bene grazie a voi allora arrivederci a voi grazie grazie di tutto anche della pazienza per tutti i pasticci iniziali bene e sì mi sono pure commosso Mauro in effetti arrivederci bene allora viva Dante Dante vivo e Dante ci aiuta a vivere meglio è così ciao arrivederci buonanotte buonanotte a voi ciao Sofia domani grazie grazie Jacopo ciao 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 grazie grazie Michela grazie a tutti vi nomino un po' ma grazie a voi sì salutameli Cristina salutami anche il babbo e la mamma arrivederci Beatrice bene ma no notte a tutti ciao Cristina ciao Stefano arrivederci arrivederci a tutti buonanotte ciao 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 Francesco arrivederci vi abbraccio tutti speriamo di poterlo fare presto nel modo umano del termine abbiamo bisogno del corpo senza corpo siamo proprio a metà arrivederci grazie chiudo Dani ma se chiudo se chiudo va perso tutto no adesso se chiudo adesso chiudo e perdo tutto no dovrebbe rimanere allora aspetta vediamo ah no il Vangelo e Dante sono vicinissimi Stella no no certo assolutamente sì è il quinto Vangelo la commedia per cui sono veramente connessi bene arrivederci un grande abbraccio grazie della pazienza arrivederci grazie a tutti